Il Centro Autismo Arezzo continua a sorprendere. Dopo il concerto di Patti Smith al Teatro Signorelli di Cortona, il prossimo 14 di dicembre, si stringe anche il rapporto con l'outlet di Foiano. In questi mesi l'Associazione Autismo Arezzo sta cercando e con successo, devo dire, di lavorare molto sul territorio, di coinvolgere anche persone al di fuori del nostro contesto. In questo caso con l'evento di Patti Smith siamo riusciti veramente a mettere in piedi qualcosa di eccezionale, di questo siamo molto contenti, anche perché ci ha dato modo di coinvolgere dei partner privati con i quali, partendo proprio dal sostegno a questo grande evento concerto per l'autismo di Patti Smith, lavoreremo per costruire progetti originali. Uno di questi è il Val di Chiano Autovillage, che quindi io come Presidente, a nome di tutte le famiglie, di oltre le cento famiglie che ci seguono, di tante persone con autismo e non solo, che vivono nel nostro territorio, ringrazio sia per il sostegno all'evento di Patti Smith, ma più che altro perché stiamo condividendo un percorso virtuoso, siamo veramente contenti, sono veramente contento perché dalla direzione dell'autista abbiamo trovato un partner credibile, intelligente e con il quale noi veramente pensiamo di costruire un percorso inclusivo, partendo da questa grande struttura che ormai è diventato il Val di Chiano Autovillage, come tutti i centri commerciali, ma che al suo interno racchiude tutte le tipologie anche di quella che è poi il nostro vivere quotidiano, quindi l'acquisto di abbigliamento, ma i bar, i ristoranti, la passeggiata e altre cose, su questo vorremmo costruire un progetto inclusivo, originale e innovativo per le persone con autismo, per le loro famiglie ma anche per tante disabilità. Per questo da oggi, ufficialmente, anche se poi faremo qualcosa di più serioso, ufficialmente parte questo progetto e questo percorso che speriamo porti nel mese di aprile 2019, che per noi è il mese blu dell'autismo, a presentare, a concretizzare un progetto di vera inclusione qui all'Autovillage Val di Chiana per tutte le persone con disabilità. Con l'associazione Autismo Arezzo, chiaramente, abbiamo stretto questo rapporto, con questo pretesto, con questa prima occasione, ma sicuramente sarà modo poi di portare avanti, appunto anche in futuro, una collaborazione, anche perché i progetti che propongono e gli obiettivi che si sono prefissati sono veramente importanti, veramente interessanti e meritano assolutamente il supporto e il sostegno di una struttura commerciale come la nostra. Quindi l'abbiamo fatto veramente con grande piacere e siamo convinti che riusciremo sicuramente qualcosa di buono.